Tutti al mare, tutti al mare Un po' presto per cantare Tutti al mare, ma sembra che le temperature decisamente fuori stagione ieri abbiano fatto affollare le zone balneari siracusane, che sono state meta per chi non ha potuto resistere al caldo sole che ha dato la possibilità a tanti di respirare aria marina e trascorrere una domenica all'aria aperta in compagnia di familiari e amici. Occasione per staccare la spina e ricaricare le energie, per poi affrontare la settimana che ci aspetta e quando le temperature permettono questo, le spiagge siracusane, con il nostro splendido mare, si affollano di grandi e piccini. Aria di primavera che anticipa le piacevoli gite fuori porta, che sembrano levare di dosso le abitudini invernali. Maniche corte, pantaloncini e le zone balneari siracusane, almeno in questi giorni di temperature confortevoli, prendono vita. Dalla renella a fontane bianche, tutti a giocare riva al mare o sdraiata al sole per cercare di abbandonare i colori pallidi dell'inverno. Giornata quella di ieri da sfoggiare anche sui social, tanti siracusani che hanno voluto condividere volti solari con sfondi delle nostre zone più belle di mare e con l'abbigliamento sicuramente non consono al mese di marzo. La nostra regione, in particolare la nostra città, ci regala un clima perfetto per un flusso turistico in tutte le stagioni. Sole, alte temperature ma anche un po' di vento, spiacevole per chi è nel relax, ma ottimo per chi, data la splendida giornata, ha voluto dare quota al proprio Aquilone, protagonista di giornate all'aria aperta e liberi dalla pesantezza quotidiana.